Ci siamo, palazzetto dello sport Giovanni Borghetti di Ospitaletto, il nostro è debutto in B1 e cogliamo l'occasione anche per farvi vedere tutti i nostri bigliettai, abbiamo la ornella, tutti dedicano un sacco del loro tempo per la nostra serie di B1. Ci abbiamo Rocco, ti stanno anche vedendo, pensa a te. Ci sono le nostre signore del bar e questa è la nostra prima giornata. Rebo è già scatenato. Qui vedete il nostro addetto all'arbitro Roberto. Natale, sei in diretta su Facebook, cosa dici ai nostri ragazzi? Lui è Natale che è il nostro superfotografo sul sedio Ospitaletto 6 ci pubblica tutte le foto. Questo è il nostro palazzo. Rebo è già carico e concentrato. Signori e signore, è arrivato il nostro momento. Un'estate, tre mesi di digiuno e siamo tornati al palomarietti con le nostre bandiere, i nostri colori, pronti a tifare Ospitaletto! e ora chiamiamoli insieme a collaborare una storia! Gotti! E due è Giulio Martino! con il numero 3 Camiglia Bonardi, 4 il capitano Francesca Uri Ferrara e il numero 5 Michela Montaneri, con il numero 6 Alexia Pottin Scala, con il 7 Federica Zastarini e il numero 8 Alicia Pezzotti, con il nome Tietchan Alaccini, il numero 10 Tietchan Arrici, con il numero 11 Ludovica Montaneri, il 12 Segundo Amarini con il numero 16 Dicono Gasparini, con il numero 7 Dicono Gasparini, 3го Tietchan Arricio, 1 Cicono Gasparini, 1 Cicono Gasparini, 1 Cicono Gasparini, 1 Cicono Gasparini, il numero 4 Ionema, 2 Cicono Gasparini, 1 Cicono Gasparini! 10 minuti vi aspettiamo tutti qua, non mancate. Grazie.